Giovedì e venerdì prossimi, primo e due giugno, torna la cordesca, la giostra cavaleresca dei bambini. Quest'anno la manifestazione si inserisce nel cartellone di Abruzzo Open Day Summer 2017, promosso dalla DMC Terre d'Amore. Si comincerà alle 16 di giovedì primo giugno con il corteo storico che da Piazza Plebiscito, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Tomba, attraverserà Corso Video per arrivare allo Stadio Pallozzi. Prima delle sfide sarà presentato il palio della cordesca, subito dopo comincerà la gara, con i piccoli portacolori dei borghi e sestieri impegnati alla conquista degli anelli. Novità di quest'anno è che saranno quattro i giovani speaker che affiancheranno quelli ufficiali della giostra, Fiorenza Quadraro e Claudio Natale, nel commentare i momenti salienti della manifestazione. Sono Susanna Castelli di 17 anni, Michele Reblassis di 21 anni, Rosario Ciacchi di 18 anni e Lorenzo Pagliaro di 17 anni, vincitori del concorso una voce per la cordesca ideato da Angelo Merola, la voce storica della giostra cavaderesca, prematuramente scomparso nei mesi scorsi. Venerdì 2 giugno, seconda giornata di cordesca, l'appuntamento con il corteo, composto da 600 figuranti in abiti rinascimentali e sempre alle 16 in Piazza Plebiscito, dalle 17.30 inizieranno le finali del torneo sul terreno dello Stadio Pallozzi. Appena concluse le gare, si svolgerà la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del Palio. Una manifestazione che ogni anno cresce sempre più e che quest'anno è stata inserita nel cartellone Open Day Abruzzo, un attestato del successo che la cordesca ha guadagnato in 15 anni di vita, ha sottolineato con soddisfazione il commissario reggente dell'associazione giostra cavaderesca Maurizio Antonini.